Hai mai usato imbottiture ai concorsi di bellezza? Che ne sei? Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video, ragazzi, ragazzi Il video di oggi molto speciale, vi ho chiesto infatti su Instagram di farmi domande un po' scom, scomodine, però anche scomodone E perché le abbiamo fatto queste domande? Perché oggi faremo un gioco, il quiz a premie più atteso dell'anno Partiremo dalla fase 1, la meno bollente, fino ad arrivare alla fase 3, la più bollente Se riusciranno a rispondere a tutte le domande di ogni fase, allora vinceranno un premio Se invece decidono di fare passaparola e non rispondere alla domanda Chi è che gliela facciamo passare liscia? Presentiamo ora i concorrenti di oggi, abbiamo una grande varietà di bonacciadine oggi Perché abbiamo il ritorno, il grande ritorno di Short Guy Jacob, Mr. Corea E tu dici, si può avere qualcosa di più di Mr. Corea? Sì, perché abbiamo anche Mr. Corea International Abbiamo poi la grande autrice, mente di questo video Elisabetta La prima fase sarà quella un po' più leggera, giusto per rompere un po' le acque E poi si incomincerà con queste I bachi da seta Se invece fai il bravo e rispondi a un po' di domande Barretta energetica che lui ci ha bisogno di, vedete Incominciamo Single o fidanzato? Single? What? What? Yes No, not yet This is too easy Fidanzata Wow 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 Grazie 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 I mean I mean I'm single I'm single It's okay, you're young Per quale idolo o attore è una crush? Luthera Pim Sakura Giapponese? Yes Ma la malattia dello Short Guy sta portare anche qui Zitto Ma che c***o dai Kimmyonah That's, 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 yeah, she's way tight cause Cause she's rich I mean, that's, that's a plus, that's a plus But Kimmyonah got married this year Exactly, I'm, I'm heartbroken, I'm heartbroken You lost your chance, no, you changed person Exactly Da 1 a 10, quanto pensi di essere attraente? Se Gio mi fa bello, tipo oggi, la mia risposta è un sette e mezzo Ma sai cosa? Anche 8 A petto nudo anche quattro Seven Seven Ma chi ci crede? Well, because, you know, like, half of population Like someone who workout a lot A non tutti piacciono quelli belli e muscolosi e quindi giustamente meno punti Perché sei troppo bello e muscoloso Understand I'd say, um... I'm humble, so... I'm a ten, I'm a ten Ten, ten, ten Quanto tempo al giorno dedichi alla cura del tuo corpo? Working on one and a half hours every day Working on one and a half hours every day Working on about like 40 minutes to 50 minutes a day I try to like at least clean my place for about 30 minutes every day Do you live alone? I live alone Where do you live? Cannam Ragazzi Tranquilla, a fine video c'è l'indirizzo Preferisci un partner italiano o coreano? I don't really care That's too easy I don't really care No, 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 no You say Italia o Korean or you have bondeghi It doesn't matter with, you know, like nationality It's for more like looking and personality Bondeghi Bondeghi Bondeghi, you have to eat bondeghi What? No, no, no I answered How many foreign, like, girlfriend you had foreigners? Two? Two? I can include 교포? No Just one Just one? And how many Koreans? Uh Madonna, che schifo Oh, buon appetito A che età la prima volta? Oh, I was pretty late Oh, how'd you see this? Ah, che c***o Jun, buon appetito Io invece ho 18 anni I'm a lady, so I'm gonna skip this E allora, manchi International age, 19 So, Korean 20 I was like a nerdy kid in high school Never really had twin opportunities Evri uguale Buon appetito Vergognati In realtà a me piacciono Sono tipo di ceci Tengo a specificare che Non è vero Cioè nel senso, se volete assaggiarle Ma fagioli No Sono di ceci Now, if you don't answer You need to do The Pepero game with me Until the end Hai mai avuto un account Holyfans? Holyfans, what is that? Holyfans? You don't know Holyfans? Oh Holyfans is like A private page So you pay monthly So let's say $10 And then you can see Like private things Like you can choose But mostly It's like You know Yango You make your page And then And then people pay for you No No, I mean like I can make like that Much money So I don't need that Io non ce l'ho Scusa stiamo andando oltre Perché andiamo per scontato Che io non abbiamo un Holyfans Che vergogna E invece sì Trovate il link qua sotto in descrizione Non è vero Se avessi un Holyfans Cosa vorreste vedere? Scrivetelo qua sotto Boom baby bye Boom baby bye Boom baby bye Sei mai stato con una donna più grande o un uomo più piccolo? So I went to academy In English academy And My teacher And me We 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 Wow Big step Wow She was only Six or seven years older than me That's how he learned English Ok Ho incontrato un ragazzo con le api Che avevo forse 24 anni Cioè stavano parlando Lui mi aveva detto che ne aveva tipo 22 21 Poi stavano parlando E fa Ah scusa devo andare che ho la verifica domani E faccio Come la verifica domani E poi allora L'ho sgamato E ne aveva tipo Boh forse 17 Una roba così Però con i coreani è difficile Perché sembrano tutti C'era capito è difficile dargli un'unità Polizia Non ho fatto niente Non è colpa mia Quando ero 20 La mia girlfriend Era 29 29? Si Era 29 Era 10-15 kg Più 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 E ho fatto il mio hair Mi ha fatto molto più 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 Eccolo qua Ti depigli lì sotto? Ah Ah A volte quando ho competizioni Inoltre no È come un Un freddo Un freddo Ciao 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 No La mia risposta è no Hai mai tradito? Sì Ciao È una proteine È buona per l'edità È buona per la nostra salute Sì È hummus Hummus Denizia Non, non le faccio che mi ricordo Sì Ah, ma dovevi rispondere anche io Oh no Non comunque E potrebbe successere Sono cose del passato Tutti sono stati giovani Hai mai usato imbottiture ai concorsi di bellezza? Contest Quando fai la fotografia o la competizione Hai mai usato qualcosa in tanti? Oh, I saw some people, wow, right Well, I don't do, personally But, like, mister Well... Can I say it? Now you have to say it or a bit, però Okay, well, some people do it, some people do it No, I didn't You don't need or you don't want? I want to say I don't need I, a couple times, used it But not to make it look bigger But to make it, like, less explicit But Jacob said he never used it I mean, Jacob's... Jacob is lying Jacob! Vieni, Jacob Quando è stata l'ultima volta che l'hai fatto? Non lo voglio dire Non lo voglio dire No, ti prego Sì! Ah! No! There we go! Ah! No, Marco... Ciao! Marco, che schifo! Ah! Wow! No, ragazzi, cioè, basta Io non ne faccio più i video con te Ma ecco, questa è la prima e l'ultima volta Yes! Thank you! Grazie, Hans Ah, no, grazie 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 Andresti a letto con una persona di questo gruppo? No, Ellie! Of course, yeah, Ellie Like, definitely the most beautiful woman Like, in this group Con Jacob Mai, poi mai, poi mai, poi mai So che non ci crede nessuno Ma... Vi giuro, ragazzi Cioè, anche per il mio video Siamo amici Cioè, mi vien da ridere Cioè, se lì mi sta vicina Mi vien da ridere Cioè, non riesco a pensare niente di... Sì? Sì? I'm a ten I dieci devono stare insieme La mia risposta? Beh, io sì Cioè, allora, prima di tutto Elisabetta Marco può guardare Cioè, possiamo toccarlo però senza niente di troppo Però può stare lì Sì, Elisabetta No, no, no No It's very disgusted Now you need to, like, punished So... Marco, e tu invece l'hai risposto lui? I'll think about it Ok In ten minutes I'll put the answer here Ma visto che anche tu non sei proprio gentilissimo a dire I'm gonna think about it I'm sorry, no, no But you are rude So now, together You have to answer to some hot questions Mi e Adele Noi andiamo a fare l'aglio sonodo Io e Adele, ciao Allora, ragazzi, questa è la penitenza Peppero Il peppero Con quante persone sei stato a letto? Uh, I... Five Five? Yeah Come on Ma dai Actually, actually, actually Ma chi te chiede? No, really You know how I talked about I'm like really particular about cleaning I like to stay clean I like to stay clean Uh... Non so Ok, ok, ok Ok, ok But one year is 365 days Right, right Yes So that's a lot of days If you think about it Think about it 52 weeks in one year Oh So if it's once a week, it's 52 Four years, 52 It's 200... 208 Mom, mom, I'm clean I did the test Hai mai usato s*** toys? Tenga Tenga is so good Do you know Tenga? Of course Of course I'm a Japanese university Oh, ok I think that's my answer Hai mai provato attrazione per il tuo stesso s***o? No Never For me, it's the opposite So I was doing this shooting Right Like a modeling shooting Like 10 years ago I was with this girl And she was my girlfriend for the shooting, right? And then After a few hours I thought I really liked... I thought I was in love with this girl And I'm like Do I like girls too? The next day I was like no Contrary to what my Instagram feed will say It's all guys who are like half naked Working out sweaty I'm still very straight You can be straight but like sometimes you're like Ok, so there is this one guy Who is like so handsome So handsome And then when I saw him I was like Am I gay? But I thought about it Still not Still not I vostri genitori vi hanno mai beccati a guardare p***o? I think They pretended Not to have noticed Is my Is what I'm thinking Oh Because it would have been so awkward to have A conversation Like a conversation about that Allora raga Io Ero tipo alle media Stavo giocando al piano di Di sopra Tranquillamente col mio vicino di Di casa A una certa Bussano alla porta E mio padre mi fa Scendi giù Faccio Ma che è successo? Scendi giù Va bene Scendo giù E c'è mio padre con Tutto sto p***o mio Che era salva Perché ai tempi Non c'erano le cose in streaming C'erano le cose salvate E quindi Lui mi fa Cos'è questo? E faccio che Cioè Ma che cosa deve essere scusa? Allora gli ho detto tipo Mi ricordo tipo Ah no me l'hanno inviato E poi Tipo mi ricordo che Si è messo Perché mio padre è bravo con Con il computer Si è messo A Scaricarmi E a vedere le mie chat di MSN Cioè la cosa più imbarazzante della vita Cioè Papà posso dire Ti voglio bene però Quella parte potevi Cioè io capisco Che la sua cosa era tipo Che avesse paura Che magari incontrassi qualcuno online Posso capirlo Però guarda Cioè leggere quelle conversazioni personali dai Bravi Ok Questa è la Champions Qui E questo è tutto per questo video Ringrazio ancora i nostri contestanti che sono venuti qui hanno perso del loro tempo per fare questa roba incredibile Vi lascio qua sotto tutti i link per i loro social Instagram YouTube la ricetta delle polpette di Adele e noi ci vediamo nel prossimo video Pizza Carbonara Ciao